È stato presentato a Roma nella prestigiosa sala del Tempio di Adriano il report dell'osservatorio immobiliare nazionale FIAIP in occasione del decennale della collaborazione con Enea ed ICOM. Sono dati molto positivi del 2022 e quindi da questo punto di vista riteniamo che il governo debba proteggere e incentivare l'investimento immobiliare attraverso delle politiche governative attive mettendo in campo un piano nazionale sull'immobiliare di tipo strategico che abbia una visione a medio e lungo termine. Dall'altra parte scarseggiano le case da vendere ed affittare quindi necessitano delle politiche urbanistiche abitative che vadano nella direzione di ampliare l'offerta dal punto di vista pubblico delle case per chi non può permettersi di acquistarle o per chi può andare in affitto a canoni calmerati e in ultimo c'è un desiderio sempre crescente da parte degli italiani di avere una casa green e quindi di una maggiore consapevolezza dell'importanza di acquistare un immobile meno energivoro. I dati del report evidenzano nel 2022 un incremento del 3,5% rispetto al 2021, pari a 775.000 transazioni complessive, un dato che nel settore residenziale non si registrava da oltre 20 anni. Stazionari valori di mercato salva aumenti che oscillano tra il 5 e il 10% nei grandi centri urbani, trenati da una forte domanda a fronte di un'offerta sempre più ridotta sia per le vendite che per gli affitti. Per l'uso diverso dall'abitativo si registra invece un andamento sulla stessa linea del 2021. Il 2022 si chiude bene, noi avevamo previsto circa 775.000 vendite di unità immobiliari e abbiamo ricevuto ieri dall'agenzia delle entrate l'informazione provvisore che addirittura forse si arriverà a 785.000 unità immobiliari residenziali compravendute, quindi da un 3,5% addirittura a un 4,7% in più rispetto all'anno precedente. Per cui diciamo che il mercato immobiliare è un mercato immobiliare sano, mercato immobiliare che continua a progredire negli anni e prevediamo per il 2023 che ci sia una stabilità. Durante l'evento si è tenuta la tavola rotonda sulle case greenery con il focus sulla transizione energetica del patrimonio immobiliare. Riteniamo che sia fondamentale mettere un po' di ordine, fare una riforma integrata, noi naturalmente come NEA e con tutta l'esperienza che abbiamo avuto sull'argomento ci mettiamo proprio a disposizione per fare questo, per aiutare il Ministero e anche il Governo a farlo. Il mercato non cresce con degli strappi ma con chiarezza e un orizzonte sufficientemente lungo, quindi è giusto pensare, riflettere insomma su norme che aiutino la valorizzazione del patrimonio immobiliare italiano e del settore in generale. Nel corso della tavola rotonda sono intervenuti anche Paolo Righi, Presidente Onorario di Auxilia Finance S.P.A. e Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale di Adi. C'è un impegno continuo delle banche che non passa solamente tramite i bonus edilizi ma anche attraverso l'erogazione dei cosiddetti mutui green che sono quei mutui che supportano i clienti per poter acquistare abitazioni ad alta efficienza energetica o per ristrutturare le abitazioni appunto per efficientare l'utilizzo dell'energia. In collegamento a video il Vice Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Onorevole Vania Gava che ha trattato il tema della sostenibilità e dell'importanza di interventi programmati per la ripodificazione energetica. Presenti all'incontro anche l'Onorevole Katia Polidori, Presidente dell'Osservatorio Parlamentare del Mercato Immobiliare e il Vice Capogruppo PD alla Camera Onorevole Piero De Luca. L'Osservatorio sta facendo veramente tante cose. Già l'anno scorso aveva proposto la cedolare secca per gli mobili commerciali, fondamentale perché questo settore è rimasto un po' indietro rispetto al mercato del residenziale. Non possiamo privare gli italiani di una misura che va nella direzione di rendere più efficienti gli edifici pubblici, aumentare il valore e consentire anche alle nostre famiglie di abbassare il costo delle bollette elettriche. L'abbiamo chiesto a livello nazionale, l'abbiamo fatto inserire anche nella direttiva sulle case green che è stata appena approvata in Europa. Sul fronte legislativo la direttiva energetica europea genera preoccupazione. Dopo il voto del Parlamento europeo tutti gli immobili residenziali, tranne qualche eccezione, dovranno essere in classe energetica E entro il 1 gennaio 2030 e in classe energetica D entro il 1 gennaio 2033. Così come è l'attuale impostazione ci sarebbe un obbligo di spesa per i cittadini italiani, milioni di cittadini italiani, si parla di 1.800.000 immobili che saranno coinvolti in tempi molto stringenti. Noi abbiamo fatto una proposta all'interlocutore governativo perché ora si apre il negoziato, il trilogo che speriamo che il governo faccia sentire la sua voce, porti prioritariamente una necessità di allentare i limiti temporali che sono troppo stringenti, dall'altra parte di chiedere un fondo energetico europeo che possa sostenere degli incentivi fiscali strutturali fino al raggiungimento degli standard minimi energetici, dall'altra parte ampliare il sistema di deroghe e di esenzioni per il nostro patrimonio che ha delle caratteristiche peculiari.